La rubrica musicale Dedicata ai concerti degli associati di The Major TV Vi portiamo in Italia e in giro per il mondo Se state cercando artisti veri, musica fatta con il cuore Non perdetevi questi stupendi appuntamenti Vi raccontiamo quello che gli altri non dicono Partiamo subito con una pianista d'eccezione in una location suggestiva The Major vi porta Pietrasanta a Lucca, sabato 3 agosto Con la bravissima pianista Maria Giulia Lari Che eseguirà musica di Mozart, Beethoven, Debussy, Granados e Bartok Per il San Francesco Festival Che quest'anno arriva alla quarta edizione Come già sapete, di Major TV Non si dimentica di chi non può andare in vacanza Ed è per questo che il 7 agosto Vi aspetto nella fresca Casasco di Intelby In provincia di Como Per un concerto di solidarietà Presso il centro anziani Il Ronco del gruppo Corian Dalle ore 15 alle ore 16 Vi suonerò dei brani bellissimi E vi racconterò anche le vite dei compositori Vi aspetto Se invece vi trovate vicino a Rieti Fate un salto a Greccio Meraviglioso borgo medievale Per assistere al concerto di un vero talento di The Major TV Emanuele Stracchi Pianista, direttore d'orchestra Filosofo Che vi farà viaggiare sotto le stelle del cielo di Greccio Sabato 10 agosto Per il Festival della Pace Dove a seguire ci sarà un delizioso buffet Siete sulla sfiaggia? Rilassati? Nessuno vi schioda da sotto l'ombrellone Niente paura Comodamente dal vostro tablet Vi trasporteremo a Toronto Con il terzo episodio del documentario Nice to meet you Glenn Prodotto da The Major TV Sul grande pianista canadese Glenn Gould In questo terzo episodio Potete scoprire le interviste a John McGravey Eric Till E faremo un viaggio all'interno Del meraviglioso CVC Glenn Gould Studio Quindi il 10 agosto Sintonizzatevi su www.glengould.tv Per scoprire il terzo episodio Torniamo in Italia Al ritmo di jazz Al chiostro di Santa Caterina Lucca Vi aspetta Valentina Ciardelli Per celebrare Frank Zappa Per un omaggio durante la rassegna Musica d'estate fra Torri e Bastioni Domenica 18 agosto alle ore 21.15 Valentina sarà accompagnata Da Pierpaolo Romani al clarinetto E Andrea Pennati alla chitarra Ma quanti concerti! Solo musica fatta con il cuore! Viaggiamo verso est Nell'estate moscovita Preparate il colbacco Il compositore Tiziano Bedetti Giovedì 22 agosto Debuterà con la magica flautista Natalia Zukova All'Art Center di Mosca Con l'opera partita numero 2 Per flauto solo Da non perdere Ritorniamo in Italia Vi piace fare shopping? Passeggiare sul lungomare cristallino? Ma non volete perdervi Un concerto di musica classica? Allora siete a Forte dei Marmi Quest'anno di Major TV Orgogliosa di essere media partner Del nuovissimo festival Sentieri Musicali Che inaugura splendidamente La prima edizione Con dei talentosissimi musicisti E un programma davvero entusiasmante Maria Giulia Lari E Luca Fialdini Sono gli organizzatori del festival E soci di D-Major Vi aspettano a Villa Bertelli Per le prime due entusiasmanti date Il 25 agosto E il 31 agosto Alle ore 21 e 15 E gustiamoci il promo! E a tutti i prossimi Grazie a tutti! E a tutti i prossimi Tutte le informazioni sono sul nostro sito www.dmajor.tv e potete seguire tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook di Major TV Grazie per averci seguito e ricordatevi, se volete musica classica vera, libera e indipendente fatta con il cuore da giovani e talentosi musicisti che sono l'anima di Dmajor TV, restate con noi vi raccontiamo quello che gli altri non dicono sul mondo della musica classica per cui restate con noi e buona estate a tutti da Dmajor TV Grazie a tutti Grazie a tutti